Ciao, sono Anna Maria, sono animatrice dell'oratorio di Porto Weir e diciamo che la presenza di Maria in questo oratorio a me piace proprio vederla sotto il punto di vista di una frase di Don Bosco che è che ogni ragazzo o ragazza che entra in un oratorio salesiano entra sotto la protezione del manto di Maria e in questo cielo mi piace molto pensare al cielo che c'è sopra il nostro oratorio che sia proprio azzurro ma è il manto di Maria diciamo come se noi fossimo proprio sotto questo manto come si vede appunto nel murales e diciamo che la presenza di Maria in questo oratorio la vedo tantissimo nel silenzio e nella discrezione dei piccoli gesti che i cooperatori e comunque gli educatori e gli animatori hanno verso i più giovani diciamo e la vedo quando per esempio ha un ragazzo anche all'ennesimo magari errore che fa e viene comunque perdonato e gli viene da un'altra possibilità ed è come cioè attraverso lo sguardo appunto degli educatori che lui diciamo si riscopre come si vede sotto una luce inversa e attraverso questo sguardo materno riesce proprio a vedersi come un dono speciale e poi vi attraverso questo sguardo Magdalene lo sguardo negativo abbiamo bisogno diンナ sostanzitno abbiamo bisogno di montare il stranoacto No, non dalle Quindi eccetera